prima che il mondo lo conoscesse una rivoluzione senza armi non funzionerebbe mia prima che il mondo lo cambiasse non vede che quella gente more di sete un viaggio cambiò la vita di Ernesto Guevara bisogna combattere per ogni respiro e mandare la morte all'inferno i diari della motocicletta martedì 20 luglio alle 21 su Rai Movie